Siracusa violano gli arresti domiciliario e la libertà vigilata denunciati. Nella giornata di ieri, nell'ambito di predisposti servizi di controllo a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, agente della Volanti hanno denunciato un siracusano di 40 anni che, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è risultato assente al controllo e un siracusano di 54 anni sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di dimora presso una struttura sanitaria che si era allontanato arbitrariamente. L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti che lo hanno riaccompagnato presso la struttura sanitaria. Agente del commissariato di Priolo hanno denunciato un giovane di 26 anni per avere violato gli obblighi derivanti dalla custodia di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.